Allora passo io sicura? Non vuoi? Vengo a piedi va bene? A piedi? Ma se la pizzeria è a 20 chilometri? E ci facciamo la passeggiatina. Ma che passeggiatina? Non dirmi che non hai la macchina. E certo che ce l'ho. BMW? Acqua acqua. La farà o meno? Acqua. Dai lo vedi stasera sarà una sorpresa. Mercedes? Fuoco fuoco. Dai a dopo. Porsche? Fuoco. Fuoco le darei alla mia macchina. Tante già frori. Tra le nostre offerte abbiamo le migliori station wagon a partire da 28 mila euro, le più belle auto sportive a partire da 30 mila euro e le berline 35 mila euro. Cerchi un'auto in ottime condizioni e non vuoi spendere una fortuna? Rivolgiti a LB Automobili e Sestu. LB Automobili è un'azienda con rivendita a Sestu e ad Iglesias, specializzata nella vendita di auto usate plurimarche. LB Automobili seleziona accuratamente i veicoli, offrendo garanzia sull'usato da 12 a 24 mesi, con la possibilità di acquistare in leasing o tramite finanziamenti personalizzati. Con il supporto della sua officina specializzata, la LB Automobili certifica la percorrenza chilometrica e lo stato delle vetture usate in vendita. Effetto è servizio di ritiro di autoveicoli usati, con possibilità di acquisto in contanti. Wow, ma che bella macchina! Ho fatto un affare! Adesso ho capito dove ti ho già visto. Dove? Nei miei sogni.